Le mamme per la salute tornano a far sentire la propria voce di protesta con un post pubblicato sulla pagina facebook dell'associazione in cui denunciano il popolo venafrano è nel più totale abbandono. Mentre aspettiamo ancora risposte in merito alla richiesta d'incontro con il presidente della regione inviata formalmente tre mesi fa il pm 2.5 da 15 giorni non è monitorato si legge nel documento le mamme esigono che vengano considerati sforamenti i dati riportati come non disponibili nei grafici dell'ARPA a tutela della salute dei cittadini chiediamo che vengano classificati a tutti gli effetti come sforamenti. Sin qui la nota delle mamme per la salute. ARPA ha però cercato di disinnescare l'ordigno spiegando che l'analizzatore del pm 2.5 è attualmente utilizzato per il campionamento del pm 10 ai fini della caratterizzazione dello stesso poiché è finita la fase della calibrazione ed è entrata nel vivo la fase analitica sulla centralina venafro 1 è stato installato un nuovo analizzatore del pm 2.5 questo analizzatore che attualmente sta funzionando deve ancora essere collaudato ed il collaudo avverrà entro un mese all'esito sarà verificata anche la possibilità di validare i dati del mese di maggio. ARPA a stretto giro pubblicherà un comunicato esplicativo sul proprio sito web a beneficio di coloro che vogliano approfondire l'argomento.